La scuola di San Giovanni Rotondo La scuola di San Giovanni Rotondo Padre Pio da Pietrelcina conosceva l'ora e il giorno della sua morte La domanda non è nuova Se la pose già il vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione Fra Gerardo di Flumeri Lo fece proprio in un articolo della rivista Voce di Padre Pio Dieci anni dopo la sua morte Proprio nel numero di settembre del 1978 Assumendo una posizione di sostanziale scetticismo Proprio nei confronti di coloro che davano una risposta positiva a questo interrogativo Però Padre Gerardo in quell'editoriale del 1978 Prese in considerazione due aneddoti Che ci fanno riflettere A me l'aveva già predetto E lui sarebbe morto Nel mese di luglio del 1968 Circa due mesi prima della morte di Padre Pio I coniugi Sergio e Augusta Latorre di Genova Fissarono al 25 agosto Il giorno in cui la loro figlia Maria Pia Avrebbe dovuto ricevere la prima comunione Dalle mani di Padre Pio da Pietrelcina A San Giovanni Rotondo Però sopravvenuti i motivi familiari Non consentivano più loro di mantenere la data fissata Per cui essi volevano rimandare la prima comunione della loro figliola Alla primavera dell'anno seguente Padre Pio che aveva già fissato il suo assenso Per il 25 agosto Venuto a conoscenza della loro intenzione Disse decisamente Se vogliono che faccia io la prima comunione alla bambina Vengano per la data fissata Se ritarderanno non gliela potrò più fare Alla domanda di spiegazione su queste parole Padre Pio rispose con una frase ancora più chiara Fai sapere che vengano ad ogni costo per la data fissata Se ritarderanno non mi troveranno più E' inutile dire che i coniugi La Torre rimasero fermi alla data del 25 agosto Io andai per chiedere dei ricordi suoi Delle cose sue Che cosa dovevo fare Allora lui mi rispose Senti Io ti dico una cosa Fra due anni Che io non ci sarò più E io rispose L'interruppo Perché dove andate? Lui ancora più severo Fra due anni Che io non ci sarò più Perché sarò morta Tante cose cambieranno Io mi sentivo pure agitata Dico ma io devo Questo se l'ha detto a me vuol dire che c'è qualche ragione La seconda testimonianza che racconta il padre Gerardo di Flumeri Nel suo editoriale del 1978 Della voce di padre Pio E' contenuta in un documento conservato Nell'archivio dei frati minori cappuccini di Foggia Il documento è una dichiarazione scritta Della nipote dello stesso padre Pio La signora Pia Forgione Impennelli La quale ebbe la felice idea di consegnarla al dottor Domenico Giuliani Notaio di San Giovanni Rotondo Con la preghiera di custodire il plico E consegnarlo al superiore del convento Dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo Soltanto dopo la morte di padre Pio Il documento quindi Ha la garanzia di un notaio Ed è crisma della legalità Probabilmente due soli indizi Per fra Gerardo di Flumeri Non potevano avere Una vera e propria forza Di prova In questo senso Cioè dare una risposta positiva alla domanda Padre Pio conosceva l'ora e il giorno della sua morte Però c'è da dire questo Che nel corso degli anni Ovvero con una serie di testimonianze E quindi con tutte le testimonianze raccolte Nella causa di beatificazione e canonizzazione Sono emersi ulteriori avvenimenti Che difficilmente possono essere etichettati Con l'epiteto Coincidenza Con l'epiteto Con l'epiteto Perdomón großes Inscendio Inscendio